Intanto do il nostro benvenuto come Associazione Italiana di Cultura Classica, ma anche come Centro Culturale Antonio Rosmini, al professor napolitano, ordinario di letteratura greca all'Università di Cassina del Lazio Meridionale, e nostro gradito ospite di Antica Nata ormai, visto che ogni anno abbiamo sempre trovato un'occasione tematicamente conforme ai suoi interessi di ricerca per attirarlo qui a Trento. Purtroppo in questo caso, per i motivi a noi ben noti, abbiamo un collegamento a distanza, ma l'alternativa purtroppo sarebbe stata di annullare l'evento e quindi tentiamo anche con questa modalità di fruire dalla dottrina del nostro ospite. Il professor napolitano è uomo dai plurini interessi, è grecista anzitutto, senza dubbio, formatosi alla scuola del grande Luigi Marco Rossi e si è occupato segnatamente di teatro. E tra l'altro mi preme segnalare, tra le sue numerose pubblicazioni, che qui sarebbe anche fuori luogo passare in rassegna nel dettaglio, è l'edizione Marsilio del Ciclope di Euripide e quindi di un dramma satiresco a proposito di ciò che il professore andrà affrontando in questo suo intervento e poi mi preme sottolineare la sua esperienza nel teatro comico, in modo particolare per la sua edizione commentata degli adulatori dei Colaches di Eupoli. Però, dicevo, dei plurini interessi perché vi sono anche contributi preziosi riguardo alla musica, cadenze d'inganno, scritti di musica del 2016 e poi, visto che noto che tra i partecipanti a questo evento vi sono anche colleghi e studenti del liceo Prati, anche un aureo libretto comparso tre anni fa sul liceo classico, a difesa del liceo classico, e che ci diede l'occasione di invitarlo per una conferenza nella nostra aula magna del liceo. Ecco, e che diede luogo anche a un fruttuoso dibattito. In realtà sarebbe lungo elencare i prodotti, i frutti dell'esperienza di ricerca del professor Napolitano perché, all'alto di queste monografie che ho menzionato, peraltro solo in parte, vi è tutta una serie di kleine schriften, come si suol dire, anche molto tecniche. E attendiamo adesso, tra l'altro, il magnum opus, quello dedicato alla bibliografia inerente alla metrica, un desideratum la cui comparsa sicuramente arrecherà molti benefici della comunità degli studiosi, e dicendo volentieri la parola per il contributo che, come vedremo, è interseca antico e moderno, e quindi muove dal dramma satiresco Proteo di Eschilo, ma anche dal prometteo Purcaeus, accenditore di fuoco, per giungere soprattutto al riuso straordinario, altamente problematico, altamente problematizzante, potremmo dire, che ne fece Wagner. Ecco, quindi lascio la parola al professor Napolitano e poi, dopo la sua lezione, daremo spazio, come è giusto che sia, anche agli interventi di chi gradisse dei chiarimenti o avesse delle curiosità. Dunque, buonasera a tutti. Spero che mi sentiate. Nel caso in cui questo non fosse, non dico adesso, ma nel corso della chiacchierata, e dovunque comunque dovesse accadere, datemi un cenno, perché naturalmente mi fermerei e aspetterei migliori condizioni di comunicazione. Il che detto, caro Matteo, con te e attraverso di te, ringrazio oltre che te tutti, insomma, i miei ospiti di oggi, la ICC di Trento, l'Associazione Rosmini, e ringrazio te, naturalmente in primis, per l'invito, e come gli amici che vedo collegati, alcuni vecchi amici, carissimi, vedo Ivan, e poi non scorro la, diciamo, la barra dei partecipanti che arriva solo a un certo punto, perché Matteo lo sa, io sono così poco tecnologico che avrei paura, toccando qualcosa, adesso di spegnere tutto. Quindi meglio non toccare nulla e salutare anche alla cieca. Ecco, Ivan lo vedo, saluto Giuliana, insomma, gli amici che vedo, naturalmente, e anche quelli che non vedo, saluto Claudio Tugnoli, al quale devo, tra l'altro, una meravigliosa occasione bolognese qualche anno fa, torno alla figura di Schiassi, giornate belle, speriamo che quella giornata bolognese, le tante giornate trentine che devo a Matteo e gli amici di Trento possano tornare presto, perché, insomma, adesso facciamo di necessità virtù, i tempi sono questi, ma, insomma, speriamo bene, perché la situazione non è piacevole, per tante ragioni, insomma, è tutt'altro, anzi, è per certi versi tragica, ecco. Io penserei di leggere un testo, più che mai oggi, per cercare, sono le, diciamo, le 5 e 10, sono quasi le 17 e 10, io ho conto di non andare oltre le 18, ma al massimo, e anzi, se posso, mi terrò più, così, più stretto, perché queste condizioni di comunicazione sono particolarmente faticose e anche, devo dire, poco remunerative sul piano del calore umano, diciamo, e anche dell'attenzione da parte di chi ascolta, credo. Quindi cercano di essere il più breve possibile, questo mio intervento si articola in una prima parte, diciamo, introduttiva che cerca di indagare, dico per dire, insomma, in modo piuttosto generale, i rapporti tra Wagner e l'Antico e tra Wagner e la tragedia greca e Eschilo in maniera particolare, e poi la seconda parte sarà dedicata, invece, a un problema di dettaglio che si iscrive all'interno del quadro e che però è appunto un problema di così, puntuale, diciamo così. I testi, la scaletta, la hand out, la fotocopia, io dico ancora la fotocopia, che circola tra il pubblico, ma insomma, qui che volete, il pubblico virtuale. So però, e ringrazio Matteo anche per questo, che avete tutti ricevuto il file, e dunque il file è numerato, i testi sono numerati da uno in poi, fino a undici, credo a dodici, fino a undici, ecco, e scorreremo questi testi, su alcuni ci fermeremo, altri li lascerò alla vostra lettura, in vista anche di una possibile discussione, perché ovviamente sarei felice se alla fine ci fosse qualche intervento, ma questo, ecco, soltanto per discutere qualcosa in più. E dunque comincerei, ecco, sono adesso le 17.10 e comincio. Sul suo rapporto con l'antico, Wagner indugia a più riprese nei suoi scritti, soprattutto nella autobiografia Mein Leben, sollecitata da Ludwig II in una lettera a Wagner del 28 maggio del 65, dettata Cosima, a partire, la moglie, dal 17 luglio 65, pubblicata, volume per volume, tra il 1870 e il 1880. In essa, nell'autobiografia, non mancano dati relativi allo studio delle lingue classiche negli anni di apprendistato scolastico, a partire dagli anni di apprendistato scolastico. Dati che trovano conferma nella lettera aperta di Wagner a Nietzsche del 23 giugno del 72, sulla quale tornerò tra poco, perché è un testo capitale. Ricorrente in questi passi, il cenno alla mancata, o almeno imperfetta, assimilazione del greco e del latino, che Wagner non pervenne mai a padroneggiare del tutto. Una condizione che lo costringe in sedita natural durante a fare ricorso a testi in traduzione. Eschilo compreso e Dreuzen compreso, naturalmente. Si legga, ad esempio, ed è il numero 1 nella fotocopia, quanto si trova scritto nelle pagine parigine in relazione, cioè, gli anni tra il 39 e il 42, gli anni che Wagner passa a Parigi in condizioni difficilissime, quasi alla fame, in certi momenti, diciamo, in relazione a Samuel Leers, fratello del grande filologo classico Carl Leers, tra le frequentazioni più assigue di Wagner negli anni parigini. Voi avete una traduzione che è quella dell'autobiografia di Wagner, che è quella di Varini, Milano, 1983, sono dati che ho riportato nello handout. Io leggerò, però, un'altra traduzione, potrei leggere anche quella di Varini, ma in fondo mi piace leggere quella di Mila che ho sostituito nel frattempo nella versione scritta a quella di Varini, nella versione scritta del lavoro e naturalmente si dicono le stesse cose, ma con parole un po' diverse, come capita quando si abbiano sott'occhio due traduzioni. Dal proposito di applicarmi ai classici greci nella lingua originale, Leers, mi sconsigliò con benevolenza perché il greco, volerlo veramente godere, non è uno scherzo e non si può praticare come occupazione secondaria. mi consolò dicendomi che così come ero e soprattutto con la musica che avevo in me sarei riuscito a farmene l'idea necessaria anche senza grammatica e vocabolario. E poi ancora, nelle pagine di Dresda, relativa agli anni di Dresda, in relazione alla biblioteca privata che Wagner aveva messo insieme in quegli anni, per i greci e i latini, cito di nuovo Wagner, dovetti adattarmi a servirmi delle nostre classiche traduzioni perché già con Omero, che mi ero procurato in greco, avevo dovuto constatare che ci sarebbe veramente voluto troppo tempo per recuperare le mie antiche conoscenze di greco finché duravano le mie funzioni di capellmeister. Aveva altro da fare, insomma. Era vero, peraltro. E dunque, meglio le traduzioni, il greco è troppo difficile. Ma nell'autobiografia si trovano anche passi di carattere più generale, quale è, ad esempio, la rievocazione delle reazioni suscitate nel piccolo Wagner dalle notizie provenienti dalla Grecia allo scoppio dell'insurrezione contro i turchi nel 1821. E questo passo è il numero due del quale non darei invece lettura. Lascio alla vostra iniziativa leggere questo passo che pure è significativo. Ma certo, il passo più significativo in relazione alle origini dell'interesse di Wagner per le lingue e le culture classiche è, forse, come si diceva, come ho appena detto, quello che cade nella lettera aperta a Nietzsche che Wagner pubblicò nella Norddeutsche Agemeine Zeitung del 23 giugno del 1872 intervenendo nel celebre Streit sorto in Germania intorno alla pubblicazione di poco precedente della nascita della tragedia, cose note sulle quali non indugio. Un vivace, astro dibattito che vide impegnati oltre a Wagner ingegni del calibro di Roth e di Wilamowitz, il primo schierato come Wagner a difesa dell'amico Nietzsche e il secondo, ferocemente, come tutti sanno, ferocemente critico nei confronti del percorso eterodosso che Nietzsche aveva intrapreso ordinario di Greco a Basilea all'epoca, non dimentichiamolo e questo faceva infuriare Wilamowitz naturalmente, faccia quello che vuole ma scenda dalla cattedra di Greco di Basilea e se ne vada in Oriente e no sui carri trainati da Pantere eccetera. Aveva intrapreso con il suo libro il passo e quello che avete al numero 3 e questo passo vale invece la pena leggerlo anche se così un po' cursoriamente perché è un passo rivelatore di tante cose e dell'essere al mondo di Wagner oltre che di dettagli relativi alla sua formazione e così via. Non credo che possa essersi mai dato un fanciullo animato più di me da entusiasmo per l'antichità classica. Parlo del tempo in cui frequentavo adresa della Koetschula a affascinarmi erano soprattutto la mitologia e la storia greca ma mi sentivo attratto anche dallo studio della lingua mentre nei confronti dello studio del latino ero ai limiti dell'indisciplina e cercavo di aggirarlo quanto più possibile. Fino a che punto la mia condotta fosse nella norma non è cosa che sia in grado di giudicare. Posso però rievocare la particolare buona disposizione che riuscì a conquistarmi in virtù del mio ardente entusiasmo da parte del dottor Sillich il mio professore preferito alla Koetschula il quale mi indirizzava con decisione allo studio della filologia. Come poi io sia riuscito ai docenti che più tardi alla Nicolai Schule e alla Thomas Schule di Lipsi di annientare totalmente in me queste disposizioni e inclinazioni diese Anlagen und Neidungen è cosa che è certo ben presente alla mia memoria e che del resto sono perfettamente in grado di spiegarmi sulla base del comportamento ottenuto da quei signori. Insomma qui Wagner dice ed è molto tipico di Wagner le mie naturali inclinazioni le mie naturali disposizioni avrebbero fatto di me un grande grecista diciamo però ho trovato sulla mia strada cattivi maestri che hanno spento in me queste naturali inclinazioni. È tipico di tutta la topiografia questo tono diciamo la topiografia è una specie di invenzione curatissima e c'è di mezzo la mano di Cosima una specie di come dire è l'invenzione di un personaggio condotta con spirito acutissimo diciamo con acuta attenzione a ogni possibile dettaglio. pure continua Wagner col tempo non potei fare a meno di chiedermi se quelle disposizioni e inclinazioni avrebbero davvero potuto trovare più saldo fondamento visto e considerato il fatto che me esse avevano finito così presto per perdersi e qui sembra che Wagner si dia una specie di resipicenza forse è stata colpa mia ma in realtà va in un'altra direzione il ragionamento solo nel corso ulteriore del mio sviluppo spirituale presi consapevolezza del fatto che il costante riaffiorare di quelle inclinazioni implicava che in me a causa di una disciplina mortalmente sbagliata aveva finito e qui torna a polemizzare con i maestri aveva finito per essere represso qualcosa di davvero importante quindi vedete torna immediatamente sulla sua sulla strada di prima oppresso dalle terribili fatiche di un'esistenza in tutto e per tutto lontana da studi di quel tipo l'unica ancora qui è importante l'unica ancora di salvezza la sola benedizione fu per me sempre immergermi nel mondo antico in die antiche Welt zuversenken anche a prescindere da quanto penosa sia stata per me la perdita quasi totale nel frattempo delle competenze linguistiche che mi sarebbero servite le musiche di scena scritte da Mendelssohn per i drammi di Sofoc le continua Wagner mostrano minore sensibilità allo spirito dell'antico Geist antiche rispetto a quella che Wagner attribuisce a se stesso nonostante l'armamentario filologico di Mendelssohn fosse rispetto a quello di cui Wagner dichiara di essere in possesso assai più compiuto e maturo seine fertige filologie quella di Mendelssohn lui questo lo dichiara ma lo dichiara a suo favore a suo vantaggio diciamo che bravo che era Mendelssohn in greco ma vuoi mettere me io capisco capivo e capisco l'antico infinitamente meglio di lui e non ho bisogno di tutta la sua filologia e di tutto il suo greco questo così ragiona Wagner non fa un complimento a Mendelssohn fa un complimento a se stesso e appunto ho conosciuto anche altri musicisti i quali pur essendo rimasti dei greci compiuti va avanti dopo Mendelssohn nella loro attività di Kappelmeister nel loro comporre e far musica di questa loro prerogativa non hanno saputo che farsene mentre io strano a dirsi dall'antico pur così difficilmente accessibile per me ho ricavato un modello ideale per la mia visione dell'arte della musica questo però è importante al di là diciamo del quadro di contesto che per certi versi è persino ribugnante è come spesso accade quando si leggono le pagine dell'autobiografia a volte veramente un senso di ripulsa nei confronti di questo modo di fare di pensare alle cose ma insomma quello che importa è quello che Wagner qui dichiara cioè dall'antico io ho ricavato e questo è un dato del quale bisogna tenere conto diciamo che vuol dire tutto questo Wagner nel sottolineare con vigore l'importanza dell'antico per la sua formazione di artista e questo è già importante non fa mistero a un tempo delle lacune che hanno accompagnato la sua formazione scolastica soprattutto per quanto attiene all'apprendimento delle lingue il greco e il latino solo che invece di nasconderle pudicamente le rivendica con malcelato orgoglio le confessa e però le rivendica come dire se altri è stato in grado di ripensare all'antico con più solida e profonda competenza anche tra i musicisti Wagner dichiara di aver fatto tesoro delle sue lacune per pervenire a una comprensione dell'antico più sensibile più matura e personale di quella alla quale erano riusciti a pervenire artisti meglio attrezzati di lui cosa c'è qui? c'è un complesso di cose c'è qui in gioco con tutta evidenza la contrapposizione tra filologia intesa come vuota inane erudizione competenze linguistiche comprese e quello che Wagner stesso chiama Geist antiche lo spirito dell'antico una formulazione funzionale a sostenere la primazia della sensibilità e del genio sulle competenze tecniche che potrebbe essere senza sforzo applicata inquadrare le opposte posizioni sostenute da detrattori e difensori di Nice nello strike del quale ho appena detto in fondo per Vinamowicz Nice era un dilettante il Nice della nascita della tragedia era per questo che doveva scendere dalla cate di greco dalla cate di teologia di greco anzi di Basilea no naturalmente è questo professionismo e dilettantismo come dire il dilettantismo rivendicato però come prerogativa positiva è un punto assolutamente essenziale nella Germania della seconda metà dell'ottocento e poi dei primi del novecento fino a Thomas Mann a Heinrich Mann questo è un dato sul quale è un punto sul quale si riflette continuamente la letteratura sul dilettantismo è infinita diciamo la dedica a Wagner della nascita della tragedia e il suo intervento apologetico nello strike che seguì la pubblicazione del libro sono capitoli di un rapporto quello tra il musicista e il filosofo tra Wagner e Nietzsche che si è stese tra alterne dicende lungo l'arco di almeno due decenni dai primi incontri all'Ipsia nel novembre del 68 fino alla stesura degli iscritti wagneriani della fine degli anni Ottanta il primo contatto di Nietzsche con la musica di Wagner più in particolare con il Tristan risale però già al marzo del 61 quindi molto presto ancora in ecce homo Nietzsche ricorda la trascrizione per canto e pianoforte del Tristan allestito da Hans von Bülow il grande direttore e pianista dal momento in cui apparve una trascrizione per pianoforte del Tristano così Nietzsche divenni wagneriano ancora oggi e ancora Nietzsche che parla vado in cerca di un'opera che abbia il fascino pericoloso la dolce e tremenda infinitezza del Tristano la cerco in tutte le arti e in vano il sodalizio tra i due fiorito nella quietia di Tripsen a partire dalla fine degli anni Sessanta e proseguito con sempre maggiore intensità fino a maggio del Settantadue a partire da febbraio del Sessantanove quando Nietzsche fu chiamato a Basilea come titolare della cattida di filologia scusate mi oscillavo tra filologia e greco la cattida di filologia le ore liete e esaltanti di Tripsen che Nietzsche nell'introduzione alla nascita della tragedia dirà di avere condensato in petrefact in oggetto di pietre avere cristallizzato pietrificato nel suo libro beh questo rapporto lo sapete tutti lo sappiamo tutti si deteriorò presto fino alla crisi deflagrata a partire dal momento in cui la composizione del Parsifal pervenne alle sue fasi finali ora la dedica a Wagner della nascita della tragedia perché la nascita della tragedia fu da Nietzsche lo ribadisco dedicata a Wagner come sapete peraltro è molto più che un segno esteriore di stima le idee che innervano il libro la visione della Grecia antica del tragico e del rapporto tra tragico e musica che Nietzsche sviluppa debbono moltissimo al sodalizio con Wagner forse ancora più debitori nei confronti di Wagner è però lo spirito che anima il libro l'esigenza di sottrarre e torno su questo punto perché è essenziale sottrarre lo studio dell'antico alla polvere della filologia tradizionale come emerge ad esempio da alcune lettere indirizzate da Nietzsche a Rode tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 tra le quali quella che avete in Ausbali insomma avete un passo al numero 4 dello handout Nietzsche a Rode 21 dicembre del 71 penso che noi due prima o poi dovremo riscaldare e illuminare con forze dal di dentro la storia della filosofia greca finora così squallida e mummificata ich meine wir beiden dürften einmal die bisher so schebige und bumienhafte Geschichte griechische filosofen tüchtig und innerlich erwärmen erwärmen und erleuchten bello insomma come dire è quel mondo lì è quella roba lì insomma filologia e spirito dell'antico diciamo queste parole di Nietzsche a Rode sono come potrebbero essere considerate esemplari di questo atteggiamento c'è in tutto questo anche un'evidente traccia di dilettantismo lo dicevo poco fa che è ciò che proprio come accadde a Vilamovitz con Nietzsche fu rimproverato a Wagner prima dallo stesso Nietzsche dopo la rottura e poi dal Thomas Bandi Leiden Reuss Richard Wagner è da Adorno nel suo Fasù Uwe Wagner grande certo perché anche su Adorno Wagner esercita il suo fascino come è ovvio che è dilettante questa accusa di dilettantismo innerva tutto il saggio di Adorno con un certo fastidio un fastidio che viene fuori emerge tra fascino e fastidio e in Adorno questo è chiarissimo naturalmente tra fascino e fastidio addirittura ripulsa nel caso di Adorno per molte ragioni di ordine culturale e anche ovviamente insomma l'antisemitismo di Wagner eccetera eccetera è quello che era successo poi il maluso di Wagner che ovviamente Adorno non imputava a Wagner parlo del dodicennio nazionalsocialista del quale però vedeva radici in Wagner insomma e questo naturalmente Adorno creava qualche problema ma più importante ancora è il segno dell'approccio all'antico che emerge dai passi appena evocati un approccio umanistico antistorico dunque antifilologico che ciò che in Wagner vedeva bene ancora una volta il Nietzsche della quarta inattuale Richard Wagner a Bayreuth nel 1876 in termini ancora benevoli siamo ancora sul discrimine diciamo siamo ancora prima della rottura e il passo è quello che avete al numero 5 dello End Out un passo che vorrei leggere con attenzione e che forse lascio tralascio però la lettura è un passo assolutamente formidabile per molti rispetti compreso anche il tedesco il tedesco di questo passo il tedesco di Nietzsche quanto è bello che il tedesco di Nietzsche è una cosa meravigliosa lo rende a casa sua diciamo tanto nei manuali di filosofia quanto nei manuali di letteratura tedesca insomma sono pochi filosofi che abbiano usato la lingua così bella ma insomma non è un passo troppo denso perché lo possiamo affrontare adesso possiamo 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 forse leggere la parte finale domina le arti le religioni le storie dei vari popoli è tuttavia l'opposto di un erudito di uno spirito meramente raccoglitore ordinatore già che e qui Nietzsche parla di Wagner in realtà parlando partendo da da Alessandro da Alessandro Magno diciamo e forse dall'immagine dall'immagine droiseniana di Alessandro arriva però a parlare di Wagner naturalmente un artista globale un animatore del materiale raccolto un semplificatore del mondo il sostantivo besela animatore vivificatore che Nietzsche applica qui a Wagner contiene l'essenza di ogni possibile approccio umanistico all'antico questo Nietzsche in Wagner lo vedeva benissimo come scriveva Luigi Enrico Rossi in uno dei suoi ultimi lavori adesso ristampati da poco è un passo che forse non avete no non l'ho riportato lo cito semplicemente così rossi l'approccio umanistico comporta uno spostamento di noi moderni verso il mondo antico sentirsi antichi è stato un esercizio frequente che si è intensificato nell'umanesimo italiano nel cosiddetto secondo umanesimo winkelmaniano in altre parole l'antico viene vissuto come modello da ammirare nei limiti del possibile da imitare da vivere da Erleben e la parola chiave che abbiamo sottolineato poco fa cioè Besel va è in linea con Erleben ridare vita dare vita è qualcosa di peretto diciamo questo è Wagner nei suoi rapporti con nel suo rapporto con l'antico naturalmente con la tetralogia Wagner si rende protagonista di uno dei più giganteschi e ambiziosi tentativi di ricreazione dell'antico che si siano dati nella storia della cultura europea il punto è vedere come per il che può essere utile cercare di delimitare i confini entro i quali la sensibilità all'antico di Wagner si è soprattutto esercitata assai più in relazione alla Grecia che a Roma intanto e in Grecia soprattutto in direzione di Omero e della tragedia di V secolo il polo epico narrativo è quello drammatico scenico alla composizione dei quali in unità Wagner lavorò con impegno estremo anche teorico durante tutta la lunga fase di composizione del ring dell'anello del nivel 1 tra i tragici di V secolo infine soprattutto Eschila e tra le tragedie superstiti di Eschila soprattutto l'Orestea nella quale grazie anche a quanto Wagner stesso ce ne dice è stato da tempo individuato uno dei modelli principali del ring su questo esistono studi ma abbastanza ampie letterature certo anche in virtù del fatto macroscopico costituito dal suo essere organizzato parlo dell'Orestea secondo una struttura tetralogica non è un caso che quella di Wagner sia una tetralogia naturalmente estremamente significativo da questo punto di vista ancora una volta un passo della autobiografia Meinladen relativo all'estate del 1847 è il passo numero 6 delle copie delle fotocopie quando la composizione dell'Owengrin stava ormai per essere ultimata e il ring era pronto a entrare nella sua prima complessa fase di gestazione e qui di nuovo questo forse è un passo che sarà bene che io legga scusate nella nella vecchia traduzione quella che avevo usato che è nello handout perché altrimenti si sovrappongono le due traduzioni e forse vi distraggo diciamo e dunque il passo numero 6 nella maturità dello spirito e del sentimento sì ecco qui leggo la traduzione che vede sotto gli occhi nella maturità dello spirito e del sentimento compresi per la prima volta Eschilo 1847 e badate il Lohengrin è appena finito e Wagner comincia a elaborare comincia a pensare al Ring 1847 nel 1848 Wagner è a Dresda sulle barricate al fianco di Bakuni sapete insomma nel maggio del 48 è raggiunto da un mandato di arresto lascia Dresda raggiunge l'Ist a Weimar nel 50 il Lohengrin va alla sua prima rappresentazione a Weimar e poi e poi Wagner è costretto a riparare in Svizzera perché è braccato da quel rivoluzionario che era diciamo sconta le barricate sconta Dresda ed è costretto a riparare a Zurigo dove passa una serie di non indifferente di anni anni importanti sul piano dell'elaborazione teorica delle cose anche gli anni degli scritti zuriesi diciamo di Constanti l'evoluzione eccetera eccetera Pinauco è un dramma eccetera torno a passo numero 6 le eloquenti di Dascalie e di Droizen evocarono così vivamente ai miei occhi l'immagine vedete quante volte torna questa idea della vita dell'antico che prende vita non è un modo di dire è una cosa che si fa inquadrare culturalmente nei termini che abbiamo appena detto no? umanesimo insomma è chiaro l'immagine inebriante delle rappresentazioni greche che alla lettura dell'Orestea subì la stessa forte suggestione che hanno quelle tragedie sulla scena nulla può ugagliare la sublime emozione che mi procurò la gamennone fino alla fine dell'Eumen di restare immerso in un rapimento che tutto sommato questo è questo è veramente notevole quello che segue fa impressione leggerlo che tutto sommato è stato la causa per cui non ho mai più potuto riconciliarmi completamente con la letteratura moderna e per la letteratura moderna intende Shakespeare o Cervantes lo dice anche altrove ma qui lo dice in un modo impressionante per mettezza diciamo le mie idee sull'importanza del dramma e del teatro si sono formate sotto l'influenza di quelle impressioni questo è un passo capitale sulla base di queste e di altre dichiarazioni del medesimo tenore gli studiosi fin da subito ma con rinnovato slancio soprattutto a partire dalle tre relazioni che il grande ellenista Wolfgang Schadewald tenne a Bayreuth su invito di Wilhelm Wagner tra il 62 e il 65 del 900 naturalmente hanno messo a reagire in ring con i testi tragici attici di V secolo è stato abbastanza naturale farlo considerate queste indicazioni nello stesso Wagner no? naturalmente privilegiando in particolar modo l'estilo dell'Orestea e del Prometeo nel tentativo di ennucleare lo si è fatto per questo paralleli puntuali tra singoli personaggi e singole situazioni della tetralogia del ring da un lato e della tetralogia diciamo dell'Orestea ma diciamo tetralogia perché poi naturalmente si conta anche il proteo nel caso di Wagner sicuramente insomma e i tragici e i regi dall'altro in particolare Eschilo in particolare Orestea in particolare Prometeo con esiti in genere deludenti però laddove si è cercato di stabilire diciamo nessi intertestuali puntuali tra i due poli perché mi sentite posso posso continuare sì se in Schadewald in linea con la filosofia della nuova Bayreuth di Wieland agiva almeno la preoccupazione stringente di depurare quanto più a fondo possibile il ring del suo carattere nordico di degermanizzare il ring dopo la catastrofe sostituendo le ruvide pelli di animali i nobili pepliattici editando così in controluce l'Austria composta pervasiva presenza modellizzante dell'ipotesto tragico antico i molti che ne hanno seguito le orme continuando a isolare contatti di dettaglio hanno inteso in termini certo troppo angusti la categoria di intertestualità il rapporto non è in punti di dettaglio è un rapporto come dire più ampio e più profondo e più costitutivo cercare punti di contatto puntuali appunto non ha molto senso e comunque non ha portato a grandi risultati non a caso il modello tragico antico agisce infatti nella definizione delle prerogative del Gesamtkunstwerk dell'opera d'arte totale in relazione a fatti di portata assai più ampia l'unione di danza musica e poesia come modello ideale per la definizione di un dramma in musica nuovo e totale la derivazione del soggetto dal mito inteso come manifestazione della saggezza popolare primigenia lo statuto religioso rituale del dramma e del luogo stesso destinato alle rappresentazioni il pubblico inteso come comunità riunita a teatro e così via è su questo piano che agisce il ripensamento di Wagner non nel prendere tasselli di teatro greco e rifarli per il suo teatro in musica non è questo il punto e agisce certo anche su fatti di ordine propriamente musicale questo è più impressionante penso in particolare al ruolo dei motivi conduttori dei leitmotiv ai quali Wagner delegò la funzione di commento questo è impressionante posso qui purtroppo dirlo solo molto fuggivolmente dovremmo dire che cos'è un leitmotiv ma per dire che cos'è un leitmotiv ci vorrebbero ci vorrebbe un convegno perché i leitmotiv sono come le formule americhe e tra gli studiosi non c'è neanche accordo su una definizione per cui insomma la cosa è complessa non importa leggiamo quello che dice Wagner e poi andiamo avanti naturalmente andiamo a drovis e non a protio in un passo capitale di Opa un trama si legge e dal passo numero 7 il coro della tragedia greca ha lasciato all'orchestra la sua funzione di depositario del significato indispensabile al sentimento del dramma alla mia orchestra quello che il coro faceva a Atene nel V secolo da me lo fa l'orchestra e cioè la rete il reticolato dei leitmotiv per trasformarsi in essa libero da ogni costrizione in comunicazione illimitatamente multiforme e nei diari di Cosima nei Tagabisha di Cosima al 29 di settembre del 71 si trova annotata un'affermazione di Wagner relativa alla cosiddetta marcia funebre di Siegfried il grandioso pezzo orchestrale che nel terzato della Götterdammerung segue immediatamente la morte dell'eroe che suona come segue ed è il passo numero 8 anche esso straordinario un passo che mi ha sempre molto colpito dovremmo adesso ascoltarla la marcia funebre di Siegfried ma non avremo tempo non importa questo in presenza sarebbe stato bello a farlo ma a distanza non avrebbe avuto molto senso credo ho composto un coro greco questo è Wagner ma un coro che viene cantato dall'orchestra cantato dall'orchestra dopo la morte di Siegfried eccetera eccetera e descrive quello che succede nel corso dell'episodio che è un episodio strumentale un episodio orchestrale un episodio orchestrale che è costruito attraverso un intreccio dialettico di motivi conduttori che appunto commenta diciamo il pregresso e anticipa quel po' che ha ancora da venire negli stessi termini in cui il coro fa lo stesso nella tragedia di V secolo questo nelle intenzioni di Wagner e allora veniamo al nostro caso di studio diciamo al nostro al nostro studio di caso in realtà perché case studies viene tradotto con casi di studio ma in realtà sono studi puntuali studi su casi specifici quindi bisogna tradurlo al contrario secondo le regole dell'inglese casi di studio casi di studio un corno non importa tra i lavori più recenti sul rapporto tra Wagner e la tragedia greca spicca per bontà di metodo e originalità di risultati un articolo di David Sansone pubblicato nel 2015 Sansone è un classicista non è un musicologo e i dati di questo articolo voi li avete è un articolo di antica un tab in trance quindi li avete al numero 9 delle fotocopie l'obiettivo di fondo del lavoro di Sansone risiede nel tentativo dal mio punto di vista complessivamente molto ben riuscito di dimostrare la fondatezza di un luogo comune degli studi sulla tetralogia ovvero l'individuazione nell'oro del reno nel Rheingold del dramma satiresco della tetralogia del dramma satiresco del ring l'intuizione centrale nel lavoro di Sansone risiede nell'indagine la quale è sottoposta alla già ricordata traduzione esquilea di Dreusen che è la traduzione attraverso la quale Wagner legge il suo Eschilo naturalmente traduzione in virtù della quale lo stesso Wagner dichiarava di avere trovato la sua via lo si è visto al passo che abbiamo detto la sua via a Eschilo rinvenendo nelle eloquenti di Dascalie che la corredano lo strumento che gli serviva per fluire delle tragedie in modo vivido e pieno come se invece di leggerle le avesse viste rappresentate a teatro questo lo dirò forse più avanti ma intanto non c'è solo questo passo naturalmente c'è anche il fatto che Dreusen la traduzione esquilea di Dreusen Wagner la possedeva sappiamo della sua familiarità anche da questo da una serie di testimonianze Sansone l'autore dell'articolo che ho appena citato più ancora che le didascalie studia però le sezioni discorsive che Dreusen dedica alla ricostruzione delle pièce esquilée perdute rinvenendo Sansone nella ricostruzione del proteo il dramma satiresco perduto che chiudeva l'orestea elementi dei quali Wagner sembra aver tenuto conto nel corso della composizione dell'oro del reno particolarmente convincente l'idea che la vicenda inscenata nella terza scena nel terzo quadro dell'oro sia debitrice alla scena di metamorfosi seriali che Dreusen sulla scorta del racconto contenuto nel quarto libro dell'odissea immaginava essere stata messa in scena rappresentata da Eschilo nel corso del proteo qui se chi ha familiarità con il ring e con il Rheingold ovviamente segue meglio diciamo la scena in questione si svolge come è noto e a ogni modo ne do un riassunto diciamo giusto che lo faccia la scena in questione del Rheingold si svolge come è noto nel fondo del Nibelheim nel quale Votan si reca in compagnia di Logue per cercare di sottrare a Alberich il re Nibelunghi l'oro rapito all'inizio dell'opera alla custodia delle figlie del re e con l'oro il portentoso anello che Alberich si era fatto forgiare ad arte dai suoi sudditi se Alberich come è naturale non ha alcuna intenzione di privarsi dell'oro e dell'anello a Votan l'oro serve per ricompensare i mostruosi giganti Fafna e Fasolt dell'opera da loro prestata nella costruzione del Valhalla e poter così di avere indietro in cambio Fraia il cui violento ratto da parte dei giganti aveva provocato l'improvviso inaridimento dei frutti del giardino degli dèi perché la missione va da buon fine ci vuole l'astuzia di Logue il dio del fuoco il quale davanti alla sarcastica diffidente accoglienza destinata da Alberich ai due ospiti cioè a Votan e a Logue finisce per attirare quest'ultimo in una trappola cioè Alberich solleticando nella vanità la trappola sta nell'invito rivolto a Alberich di mettere alla prova davanti ai suoi ospiti le virtù del suo elmo magico il Tarnhelm le cui importantose qualità consistevano nel consentire a chi lo indossasse di metamorfosarsi a piacimento Alberich indispettito dall'esibita incredulità di Votan e Logue accetta la sfida ma se la metamorfosi in drago impedisce ogni possibile intervento quella successiva in rospo consente a Votan e Logue di far prigioniero l'ingeno Alberich per trascinarlo via in catene con oro elmo e anello per Sansone come ho detto poco fa la scena delle metamorfosi di Alberich dipenderebbe dai termini in cui Wagner trovava descritta in Drogsen quella delle metamorfosi di Proteo nell'omonimo dramma satiresco Eschileo da qui per Sansone la conferma della bontà dell'idea che nel Rheingold sia da individuare il dramma satiresco del Ring il dramma satiresco della tetralogia Wagneriana satiresco il Proteo satiresco il Rheingold anche se primo in tetralogia e non nella consueta collocazione di chiusura perché il Rheingold apre la tetralogia di Wagner e non la chiude naturalmente ma la dipendenza del Rheingold al Proteo è prefigurata da Sansone in termini più pervasivi di quelli che si configurerebbero dove tale rapporto di indipendenza si limitasse a un richiamo di superficie tra assetti scenici simili e investe la fisionomia stessa dei personaggi in questo il procedere di Sansone è sano non cerca soltanto punti di contatto punti di dettaglio diciamo intertestualità puntuali fatti di intertestualità puntuale ma investe uno spettro più ampio di possibilità se il motivo della metamorfosi spinge Sansone a vedere in Alberich una continuazione di Proteo dunque Alberich come Proteo diciamo anche la coppia costituita da Menelao e Idotea che nella ricostruzione fornita da Droison sono i protagonisti dell'inganno ordito ai danni di Proteo per strappargli la necessaria profezia trova un perfetto contraltare nella coppia di complici formata nel Rheingold a Vota nel Luge e si potrebbe continuare aggiungendo magari a quelli accumulati da Sansone altri dettagli forse non meno significativi attiverei ad esempio l'attenzione sul fatto che tanto i Proteo di Droison quanto il Rheingold si chiudono nel contesto di uno scenario crepuscolare nel quale l'oscurità della notte si fa progressivamente strada e si potrebbe riflettere utilmente eccedendo i confini del Proteo anche sul possibile rapporto tra la ricostruzione fornita da Droison in relazione a un ulteriore dramma satellisco perduto di Eschilo il prometeo accenditore del fuoco e le prerogative proprie del personaggio Wagneriano di Logue che del Rheingold e in particolare del suo finale è assoluto protagonista ci tornerò tra poco per quanto sai in breve ora questa ricostruzione del Proteo da parte di Droison sarebbe da leggere tutta ma naturalmente non è possibile forse non starò neanche a leggerne passi passi che però avete nello handout e in particolare a partire dal numero 10 il numero 10 e il numero 11 e il numero 10 riguarda il Proteo riguarda il Proteo lo avete un passo che avete in tedesco e ne avete poi anche cioè nella versione diciamo originale in lingua originale e poi ne avete una mia traduzione subito sotto subito sotto con sottolineati passi i passi più importanti diciamo almeno dal mio punto di vista passi sui quali adesso magari riflettiamo molto in breve ma ometterei la lettura per brevità in relazione a questo passo voglio dire questo non avrebbe senso discutere l'attendibilità delle molto fantasiose ricostruzioni proposte da Droison quella fornita in relazione a Proteo della quale qui leggete un assaggio diciamo densa di ogni possibile dettaglio il frutto di procedimenti ricostruttivi tanto sbrigliati quanto incauti che oggi nessun filologo prenderebbe lo dico con tutto il rispetto per Droison che è un personaggio gigantesco ma che è figlio del suo tempo naturalmente prenderebbe per buoni davanti al poco nulla che del proteo sopravvive nessuno oggi si permetterebbe io sono per ricostruire ricostruibile come sa chi conosce la mia attività di lavoratore su frammenti diciamo e in particolare di commedia però naturalmente non così questa è una questa è una ricostruzione quella di Droison del tutto fantasiosa ma si faceva lo si faceva anche peggio di così Droison lo fa bene quel che importa tenere in conto è che Wagner ha letto il suo estilo attraverso la lente di Droison ricostruzioni del deperdito comprese il che rende perfettamente verosimile immaginare come fa Sansone che appunto in esse egli abbia potuto trarre ispirazione per i suoi drammi c'è però nel lavoro di Sansone un punto di dettaglio su quale non potrei dirvi d'accordo l'idea cioè che Alberich oltre a mostrare tratti che risalirebbero al proteo del dramma satiresco di Eschilo ne presenterebbe altri che dovrebbero far pensare piuttosto alle prerogative tipiche dei satiri in Alberich Sansone vede insieme tratti di proteo e tratti satireschi in relazione al proteo naturalmente insieme nello stesso personale cioè in Alberich appunto non posso scendere nel dettaglio del resto non servirebbe almeno qui e oggi perché mi sia recito dirlo nel modo più sintetico possibile se Alberich è proteo nel Rheingold i satiri piuttosto che in tratti propri dello stesso Alberich come vuole Sansone andranno indovinati nei suoi sudditi nei sudditi di Alberich e cioè nei Nibelunghi io credo che così sia e questo Sansone non lo dice schiaccia tutto su Alberich ma no il parallelo è tra satiri e Nibelunghi sono i Nibelunghi i satiri del dramma satiresco vailaniano se i satiri del proteo di Dreusen si lamentano dello sferadienst del duro servizio qui potete guardare è a pagina 2 delle fotocopie proprio l'ultimo rigo parte del quale è sottolineato ecco e si si avete sotto anche la mia traduzione il duro servizio il duro servizio dei satiri topos del dramma satiresco naturalmente di quinto secolo e il duro servizio al quale i Nibelunghi sono astretti sotto la frusta crudele di Alberich diciamo il grave servizio al quale se i satiri del proteo di Dreusen si lamentano dello sferadienst al quale proteo li costringe Alberich sottopone nel Rheingold sottopone suo fratello Mime i suoi sudditi Nibelunghi un servizio certo non meno gravoso come sa bene chi abbia in mente la tetra infernale officina del Nibelheim la topica servitù dei satiri del proteo è quella dei Nibelunghi sversati da Alberich il guadagno è evidente intanto com'è impossibile immaginare in antico un dramma satiresco senza satiri così non ha molto senso immaginare che Wagner lasciandosi ispirare da un tassello perduto dell'eschito satiresco non si ponesse a un tempo il problema rappresentato dalla necessità di una presenza che riproducesse per questo aspetto fondamentale anzi distintivo l'assetto dell'originale i satiri vanno cercati vanno cercati che ci sono naturalmente che c'erano nel proteo vanno cercati anche per quanto in maschera vanno cercati anche nel Reingold e bisogna cercarli nei Nibelunghi io credo i Nibelunghi servivano perfettamente allo scopo di dotare i Reingold di una presenza avvicinabile a quella dei satiri del proteo con i quali come si è detto condividevano una sorta di servitù alla quale erano condannati ma questo porta a una considerazione ulteriore questa volta in chiave di discontinuità e qui ritengo molto a quanto sto per dire perché questo è un po' il punto cioè il senso dell'operazione di Wagner nel rifare nel rifare il proteo nel dotare di un dramma satiresco primo in tetralogia invece che quarto in tetralogia la sua tetralogia il suo ring eccetera una considerazione in chiave di discontinuità rispetto al modello satiresco e stileo perché se il dramma satiresco antico proteo compreso metteva in scena vicende all'interno delle quali lo stato di subordinazione dei satiri era ingrediente fisso tali vicende erano però destinate in antico erano destinate per legge di genere a sfociare invariabilmente in scene finali di festiva trionfare liberazione con Sileno e i satiri liberi infine di riunirsi a Dioniso molto diversamente vanno le cose nel Reingold il cui straordinario finale nonostante le apparenze è tutto meno che festivo e liberatorio per non dire ottimistico è l'ingresso al Valhalla non solo per i Nibelunghi e Alberich che nella quarta scena dell'opera privato dell'oro dell'elmo dell'anello la despota crudele si vede degradato egli stesso a servo in catene ma anche per gli dèi del Valhalla ai quali mentre si apprestano a fare finalmente il loro ingresso nella reggia nuova di Zecca pronta ad accoglierli fa da cupo contro canto prima il presago sarcastico a parte di Logue i remende heilen sie zu fast schemi alla loro fine si apprestano quasi mi vergogno di avere a che fare con loro con gli dèi dice Logue canta Logue è una cosa straordinaria il finale del loro terreno è tra le cose grandi del mondo e poi la lamentuosa nenea delle figlie del reno naturalmente Reingold Reingold eccetera così la notte che scende sul Valhalla non ha nulla del lieto notturno che chiude il proteo di Dreuze mettiamoli pure in collegamento ma il segno è completamente diverso e Logue l'ambiguo sfuggente dio del fuoco del Reingold sembra davvero modellato sul Prometeo l'era insegnante diciamo maestro e vol teta e benefattore del Prometeo es foliazende di Dreuzen ma assai più per opposizione che per analogia il nuovo ordine la neue ordine del quale della quale Prometeo per Dreuzen si sarebbe fatto garante nel dramma statilesco di Eschilo rappresentando le aspettative e i diritti delle classi popolari più basse ma anche a un tempo i valori dell'intero corpo civico nel finale del Reingold si prefigura come una speranza denunciata come illusoria fin dal momento del suo primo Dars dall'acre il ridente commento con il quale proprio Logue ridendo della loro ingenuità accompagna gli dei nella loro fittizia apoteosa devo dunque dichiararmi in disaccordo con Sansone anche su questo punto dal momento che per Sansone il passo di Dreuzen relativo al nuovo ordine andrebbe messo in relazione non con il finale del Reingold ma con la Glotte d'Emerung proprio in considerazione del ruolo protagonistico che Logue gioca nel finale del Reingold ritengo invece che la ricostruzione fornita da Dreuzen per il Prometeo Accenditore del Fuoco è l'ultimo testo nello handout il numero 11 sul quale vi prego di riflettere se volete di leggerlo di riflettere ma direi per conto vostro perché mi avvio molto rapidamente a chiudere sono a 5 minuti dalla fine e dunque non voglio eccedere le 18 diciamo ritengo che la ricostruzione fornita da Dreuzen per il Prometeo Accenditore del Fuoco che avete in parte al numero 11 abbia potuto ispirare Wagner appunto per il finale del suo Furspiel del suo prologo eccetera ma in chiave antifrastica come dicevo piuttosto che per via di fedele Mimesi nel senso che Logue è Prometeo Accenditore di Fuoco ma lo è catantifrasi e il suo contrario cattivo e il suo contrario non è un volteta non è un lera e uno che vede gli dei avviarsi al balala e ne ride e dice tra sé se quasi quasi vorrei essere altrove mi vergogno di avere a che fare con loro perché ne vedo la pochezza è altro che Prometeo eppure è Prometeo entrambi dei del Fuoco e contratti di similarità evidente Wagner opera un rovesciamento del dramma satiresco si ispira al dramma satiresco al proteo e forse anche al Prometeo mette assieme elementi satireschi ma cambia completamente il segno e la funzione del dramma satiresco antico ne fa altro e questo altro è addirittura il contrario per segno per funzione per stimung il passo al numero 11 che non posso leggere e che vorrei che voi teneste sotto gli occhi però e scorreste adesso non è poi così lungo in realtà sembra lungo ma per metà è tedesco e per metà è italiano il passo è lo stesso naturalmente il tedesco è la mia traduzione quindi si può fare diciamo un passo questo sul quale c'è da questo del numero 11 delle fotocopie sul quale c'è da credere che il Wagner degli scritti zurichesi abbia potuto riflettere con entusiastica adesione soprattutto in relazione alla lettura sociopolitica che vi si sostiene in ordine alla categoria di nuovo ordine noi ordnung ma per non insistere su un aspetto molto ben studiato della ricezione wagneriana dell'antico ovvero l'idea che nella polis greca e più specificamente nell'Atene democratica di pieno quinto secolo fosse da ravvisare il modello ideale per la costruzione della città e dei cittadini del futuro basterà forse citare qui di seguito piuttosto un passo un passo di 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 rivoluzione uno dei più significativi scritti zurichesi appunto che nel suo isolare proprio il prometeo di Eschilo come la più profonda di tutte le tragedie nel contesto di una riflessione che insiste sull'intreccio inestricabile tra le varie diverse attività del popolo colto in tutte le sue componenti e la funzione unitaria garantita dalla dimensione teatrale intesa come metafora della vita sociale e comunitaria aiuta il passo a intuire come la lettura dell'Eschilo di Droese debba aver giocato un ruolo tutt'altro che superficiale in funzione anche della configurazione delle idee nuove di società di teatro e di uomo in funzione del futuro che Wagner sviluppò a partire appunto dagli iscritti esuvighesi questo passo di di Kunst di Rivoluzione non è nelle fotocopie vorrei leggere ve lo introdesco ma ve ne do una breve traduzione una mia breve lettura una mia traduzione credo che sia mia la traduzione sì è mia anche in questo caso sì questo popolo esuberante parla di dell'Attica e di Atene esuberante di individualità in ogni sua parte in ogni personalità incessantemente attivo uso a considerare la meta di un'impresa niente altro che il punto di partenza per una nuova impresa questo popolo affluiva dall'assemblea politica dalla piazza del tribunale dalla campagna dalle navi dai campi di battaglia dalle regioni più remote riempiva l'anfiteatro di 30.000 uomini per vedere rappresentare il prometeo la più profonda di tutte le tragedie per raccogliersi davanti la più profonda opera d'arte per cogliere se stesso e comprendere la propria attività eccetera eccetera se l'ottimo lavoro di Sansone ha un limite esso risiede a mio modo di vedere e chiudo in un minuto e devo dire ecco sono le 17.57 avevo detto le 18 o un po' meno ma oltre le 18 non vado perché ho un minuto ancora e ne sono felice non sapevo minimamente la prima volta che mi capita di fare un intervento diciamo beh questo non è un convegno ma insomma una lezione a distanza in tutti questi mesi ho fatto lezione a distanza solo per i miei studenti di Cassino avevo molta paura mi sono detto oddio adesso sforo faccio un disastro forse il disastro l'ho fatto nel leggere troppo velocemente abbiate pazienza dal vivo sarei stato forse più più comprensibile e più attento e più ma sapete dal vivo ci si guarda negli occhi e io sto attento naturalmente all'attenzione e così parla uno schermo che volete che vi vi speriamo se l'ottimo lavoro di Sansone ha un limite e chiudo esso risiede a mio modo di vedere nel fatto che al tentativo molto proficuo di stabilire nessi di rintracciare parallelismi non segue riflessione di sorta quanto al segno e alla funzione da attribuire ai rapporti che legano i due testi ogni ricreazione classicistico umanistica dell'antico può darsi ora in prospettiva mimetico-continuistica ora ed è ciò che accade più spesso in chiave di discontinuità di rottura e dunque di novità anche se nel primo caso l'esegeta non può che prendere atto del carattere più o meno ingenuamente mimetico dell'operazione di ricreazione né il secondo deve di necessità interrogarsi sui limiti entro i quali l'operazione di ripresa dell'antico si è esplicata specie nei casi in cui tale operazione mostri i segni del fallimento dello scacco come esito la tetralogia nasce sotto il segno dell'ottimismo quando Wagner comincia a pensarla l'ottimismo degli iscritti zurichesi ne abbiamo visto un campione diciamo nel passo di di constanti di evoluzione che ho appena letto tutti pieni ancora dell'entusiasmo rivoluzionario barricadero che aveva portato Wagner sulla barricata a Dresda nei quali la riflessione sull'antico e più specificamente sulla Grecia e sulla Tena di età classica serve a dare positiva sostanza alla fede nella possibilità della configurazione di un uomo nuovo modellato sull'uomo greco antico ma nuovo è superiore anche rispetto al modello l'esito schopenhaueriano del ring a un certo punto arriva a Schopenhauer ma solo a un certo punto non fin dall'inizio come qualcuno pensa a Porto quando Wagner comincia a pensare al ring non conosce Schopenhauer questa è una cosa che spesso si dice il ring è schopenhaueriano mica vero certamente non nelle sue premesse diciamo l'esito schopenhaueriano del ring disegno tutto affatto diverso rispetto alle coordinate del punto di partenza è il risultato di un tragitto lungo articolato complesso del quale non si può mancare di tenere conto perché i termini dell'operazione di ripresa del proteo messa in atto da Wagner nel ring possano acquisire senso assai più che in funzione dei tratti pure evidenti di continuità in relazione ai punti di disarmonia di discrasia di frattura che sono quelli che fanno del ring un dramma satiresco sì ma serio e non giocoso grazie io avrei finito grazie molte ringrazio il professor Napolitano per questo denso complesso e problematizzante intervento che ho seguito spero abbiamo un po' tutti seguito con con viva attenzione e nell'aprire della discussione mi permetterei di fare così una considerazione a caldo e di porti anche una domanda a proposito di droisan perché effettivamente abbiamo a che fare con un caso estremo nel senso che in conclusione notavi come effettivamente la ripresa dell'antico possa darsi o in una chiave dicevi mimetico continuistica oppure in chiave di discontinuità in questo caso abbiamo a che fare con una discontinuità se esaminiamo i termini di paragone pensiamo al punto di partenza e pensiamo al punto di arrivo è come dicono i tedeschi un grenzfall un caso limite perché basta aprire l'edizione di Ratz dei frammenti e Schielei e ci si accorge che quel che sappiamo del proteo coincide più o meno con il nulla abbiamo a che fare con poche parole con qualche verso al limite dell'intraducibile se poi spostiamo la nostra attenzione sul pur caeus se non rametto male Stefan Ratz diceva a tal proposito argumentum prosus ignotum quindi partiamo davvero da un mare di nebbia al di là della quale non si intravede quasi nulla è fatta salva la stima che è bene che abbiamo per molti aspetti per un grande della cultura ottocentesca ma anche in fondo della lotta politica dell'ottocento quale fu Droyzen viene da chiedersi su quali basi abbia potuto costruire quell'argumentum sia nel caso del proteo sia nel caso del prometto accenditore di fuoco anzi quegli argumenta dai quali avrebbe proprio preso le mosse Wagner che a sua volta si sarebbe discostato anche da Droyzen variando e quindi rendendo anche il tono caratteristico dei drammi stati antichi financo serio ecco quindi io mi chiedo ma Droyzen certo tu naturalmente hai evidenziato come ci sia stato un modo di muoversi metodologicamente piuttosto avventuroso da parte di Droyzen nel ricostruire questa trama però mi viene anche da dire Droyzen non era l'ultimo arrivato fu un uomo di particolare sensibilità fu un traduttore di Eschilo attrezzato e capace certamente non era un dilettante quindi rimane questa poria in che modo riuscì a ricostruire una trama sul Purkaeus si mosse già in una maniera un po' più prudenziale partendo da non so che punto di vista forse dal titolo semplicemente dal titolo ecco ma nell'altro caso per il proteo come riuscì a delineare questa trama così avvincente così affascinante dalla quale poi prese le mosse varie questa è una domanda che ti pongo se è lecito porla certo che è lecito Matteo ad esempio prendendo a modello il quarto dell'Odissea il quarto dell'Odissea è come dire lo sfondo sul quale Droyzen principale sul quale Droyzen faceva così dove mancasse materiale dove mancassero appigli e beh c'erano le fonti mitografiche antiche Droyzen lavora anche con Apollo d'oro voglio dire ma nel caso del proteo c'era naturalmente il quarto dell'Odissea e in fondo la lunga dettagliata ricostruzione del proteo perché sono parecchie pagine tedesco fitto del proteo di Eschilo del quale noi non abbiamo nulla e nulla conosciamo beh questa ricostruzione viene in gran parte dall'idea che nel proteo Eschilo facesse quello inscenasse quello che si racconta nel quarto dell'Odissea il grosso materiale è questo ma caro caro Matteo non c'è dubbio io questo ho voluto dirlo in modo chiaro dicendo al tempo un'altra cosa però che in fondo quello che a noi importa o importava oggi su Droyzen traduttore ci sono lavori anche recenti molto buoni non ricordo su Droyzen traduttore di Aristofane sicuramente ed è un libro che ho qui dietro le spalle ma è fatto molto perché poi Droyzen è stato un personaggio non solo il personaggio gigantesco che sappiamo ma anche un gigantesco traduttore gigantesco anche per mole questa è la gente che lavorava che lavorava spaventosamente e su Droyzen traduttore di Aristofane c'è un lavoro una monografia di De Grocer che ho qui alle mie spalle non so le ultimissime su Droyzen traduttore di Eschilo ho naturalmente ho in mente lavori ma lavori già ormai di qualche anno fa potrebbe essere che ce ne siano di più recenti ma Droyzen ancora così traduce traduce benissimo laddove traduca il conservato dove si tratti di ricostruire il de perdito quello che fa ad esempio è prendere testi che raccontino ciò che Droyzen pensa che dovesse darsi essere messo in scena nella tal pièce e fa il riassunto la ricostruzione del proteo è il riassunto in buona parte il riassunto del quarto dell'Odissea Matteo questo è né più né meno ora noi questo però in relazione a Wagner non interessa nel senso che quello che ci interessa è che Wagner il suo Eschilo lo legge attraverso Droyzen per quello che resta e lo legge attraverso Droyzen anche per quello che non c'è anche per il de perdito e dunque per Wagner il proteo di Eschilo era il proteo di Droyzen e questo in fondo oggi ci importa poi per carità certo se uno oggi ricostruisse sul prometeo accenditore di fuoco ho in mente ma potrei sbagliarmi ho in mente un bell'articolo non troppo lontano nel tempo ma qui mi aiuti tu di Paolo Cipolla mi sbaglio ricordo un articolo del 12 del 13 di Paolo Cipolla però capisci Paolo Cipolla e Droyzen ovviamente lavorano secondo linee di metodo completamente diverse Paolo Cipolla con i resti quel po' che resta fa un ottimo lavoro ricordo un bel lavoro come al solito per i lavori di Paolo un lavoro di cesello eccetera su quel po' che resta e lo fa con un buon metodo filologico come ho proprio e Droyzen se ne fregava Droyzen ricostruiva questa storia che il proteo finisce in questa processione notturna crepuscolare felice ritrovata armonia sono tutte invenzioni sono invenzioni delle quali però Wagner avrà potuto o non potuto tenere conto ma che aveva in mente però perché quello era il suo eschio e questo in relazione a Wagner questo ci importa diciamo ma sono cose che sai non è che tu è un'indagine di grande momento e per quanto ho potuto appurare non c'è ancora salvo che non sia uscito recentissimamente uno studio sull'eschilo di Droyzen fatto in maniera pari a quello su Aristofane che ci indagano e ciò che è impressionante lo dico semplicemente perché me ne ero occupato tempo fa le quattro edizioni e scrive di Droyzen è che non solo non esibiscono mai il testo greco ma in nessun punto parlano mai delle edizioni utilizzate quindi noi non sappiamo mai mai che greco traducesse Droyzen questo è il problema di fondo ed è naturalmente un grosso problema persino uno studioso peraltro di vecchia generazione come Manfred Landfester che è ancora vivo in un contributo di qualche anno fa proprio su Droyzen traduttore interprete di Eschilo in una ventina di pagina non si pone nemmeno il problema di quale Eschilo avesse tradotto è uno dei lavori è uno dei lavori che avevo in mente Matteo ma un lavoro ora questo su Droyzen traduttore di Aristofane guarda se ne avevessi il dorso ecco guarda aspetta aspetta perché vedi questa roba che si fa a casa che si fanno a casa le cose avrei se fossi stato a Trento se eri stato tanto più felice avrei cercato su internet avrei trovato invece a casa ti giri ecco Johann Gustav Droyzen Aristofane Subesetzung 1835-38 un libro di De Groot di una tale Josefine Kitz si intitola Poetische Vergegenvertigung Historische Distanze ecco il libro è questo ma un libro così sull'Eschilo di Droyzen no almeno non mi risulta è sannulloso naturalmente ma però in tutto questo voglio dire con più chiarezza una cosa che ho detto molto a passato e per non sbagliare do un'occhiata ai miei dati che ho qui Wagner aveva una copia della prima edizione dell'Eschilo di Droyzen 1832 che però dovete abbandonare con il resto della sua biblioteca privata quando dovete scappare da Dresda e poi una copia della terza edizione Matteo non della quarta ma arriva la terza 1868 una copia che si trova ancora adesso a Bayreuth tra i libri di Villa Van Fritz tra i libri di Carlo Sassonua diciamo quindi conosceva Dresda ma poi lo cita ma oltre a citarlo e a citarlo anche in passi significativi per il suo mondo diciamo per il suo rapporto con l'antico lo possiede lo possedeva ce l'aveva tra i libri di Carlo ma è chiaro è chiaro non avrebbe mai potuto leggere Eschi in un originale e questo è evidente figurati di Wagner che legge la Camennone in greco ce lo dice lui stesso e appunto e ne fa una chiave della sua costruzione di personalità io il greco non lo leggo ma tanto meglio io che Mendelssohn capite Mendelssohn era più bravo di me ma Mendelssohn certo Mendelssohn Wagner era un poveraccio mentre Mendelssohn era questo è il punto Mendelssohn aveva fatto buoni studi non aveva dovuto pensare a lavorare diciamo e quindi era in fondo un aristocratico era un nobiluomo era una persona di mezzi agiata di mezzi diciamo incalcolabili rispetto a quelli di Wagner e quindi Mendelssohn aveva fatto bene i suoi studi qui c'è anche una traccia di antisemitismo in Wagner naturalmente il fatto che se la prenda con Mendelssohn tanto più bravo di me in greco ma tanto meno addentro allo spirito della musica e questa è l'essenza di quello che i tedeschi chiamano direttantismo fino a Thomas Mann a Heinrich Mann fino ai primi del novecento fino a morte a Venezia se ne è parlato a lungo in relazione allo Aschenbach di morte a Venezia ma anche oltre naturalmente e anche in musica e ancora Adorno continua a imputare a Wagner questo è un genio ma in fondo un dilettante e Wagner se ne gloriava invece dice io il greco non lo so ma che mi importa non mi serve questo è un'altra cosa problemica però non vorrei sottrarre spazio ad eventuali altre domande quindi chi volesse intervenire anche fra gli studenti che partecipano e porre qualche domanda al professor Napolitano tranquillamente ecco basta attivare il microfono io sempre vorrei dire una cosa innanzitutto ringrazio per avermi un clima wagneriano che io ho sempre pur conoscendo l'amore di Wagner per la cultura antica greca in particolare questa corrispondenza così precisa nella tetralogia che è proprio un po' la summa non della mitologia greca ma di quella germanica quindi voglio chiedere una cosa che probabilmente potrebbe aprire un altro convegno però se ci sono altre se il professor Napolitano ha trovato nella tetralogia altre corrispondenze o ispirazioni relative alla mitologia alla cultura antica greca e se eventualmente queste cose entrano in conflitto con quella germanica che è predominante guardi Edoardo vero? se ho letto bene guardi su questo c'è esiste una una bibliografia vi ho accennato ma adesso posso farlo con un minimo di agio in più una bibliografia densissima che è fatta tutta in linea di massima salve eccezioni di ragionamenti di questo tipo ecco il tale personaggio di Wagner trova un archetipo un antecedente un punto di partenza nel tale altro personaggio di tragedia di quinto secolo o della mitologia greca per dire fricca da un lato e era dall'altro lato la gelosa e anche per certi versi noiosa moglie di Votan da un lato e la era gelosa della mitologia greca ecc quindi Edoardo di questi paralleli ne esistono abizzesse è stato immaginato e pensato di tutto e direi a partire dal da poco dopo la morte di Wagner questa letteratura sui rapporti diciamo tra Wagner e l'antico tra Wagner e la tragedia tra Wagner e Eschilo hanno cominciato a uscire diciamo dagli ultimi decenni dell'ottocento Wagner era morto da poco e questo non a caso si coglieva un punto essenziale della poetica di Wagner lo sapevano tutti e non è un caso che si sia indagato in questa direzione in questa direzione metteva lo stesso Wagner inutile dunque che io faccia qui come dire un elenco se posso vediamo un po' se ritrovo una cosa che non ho letta ma quindi insomma Edoardo e tutta questa valanga di studi insomma sono poi molti non fanno altro che cercare di preso atto del fatto che Wagner stesso a dirci che la tragedia greca è stata modellizzante diciamo per il suo mondo culturale ideale e anche artistico musicale quello che poi si è fatto per un secolo e passa è stato andare a caccia di paralleli con poco con poco però con poco costrutto perché appunto non è in questi paralleli fricca era si rischia il comparativismo così spicciolo a buon mercato ma che non porta molto lontano il senso dell'operazione di Wagner è più pervasivo è più profondo e investe le funzioni del teatro nel teatro di quinto secolo Wagner vedeva funzioni che avrebbe voluto replicare in relazione al suo fare teatro e musica e anche in relazione alla configurazione dell'uomo nuovo che negli scritti zurichesi aveva in mente ora poi naturalmente in questa ampia letteratura ci sono anche ci sono anche che in genere non porta non porta lontano ci sono anche delle eccezioni adesso non trovo non trovo più ma ah sì ecco forse è qua sì ecco qua io ricordo ecco ma per esempio un'eccezione rispetto alla norma dell'intertestualità puntuale e poco fruttifera e poco fruttuosa una eccezione è costituita dai lavori di Borschmaier di vita Borschmaier che ha lavorato sul rapporto tra il ring e le tragedie tebane di Sofocle perché guardate non è solo Eschilo è stato chiamato in causa anche Sofocle in particolare da Borschmaier e non a caso perché nella seconda parte di opera un drama Wagner le tragedie tebane di Sofocle le analizza sono al centro queste tragedie di una lunga penetrante analisi di taglio storico filosofico dunque Wagner le conosceva e Borschmaier ma Borschmaier fa un discorso ampio non fa un discorso di dettaglio per il resto faremmo notte se quello che io posso fare se l'è Edoardo se l'è interessato è mandarle una fotografia un pdf della della bibliografia ormai da aggiornare ma quello che le posso ecco il c'è il libro dell'82 di Juhans Wagner Eschilo Il Ring L'Orestea e poi soprattutto nel 2005 è uscita una memoria gottingese Nachricht Academy der Wissenschaften di Gotting eccetera eccetera di uno studioso serissimo che della cosa si è occupato anche altrove peraltro si era occupato già prima Misha Maya che è un antichista è un collega bravissimo che è proprio è la storia diciamo della questione in relazione in particolare al Ring sono neanche centropagine una memorietta potrei mandargiela anche tutta se mi dà il tempo di fare il ma questa memoria ha in fondo una bibliografia aggiornata al 95 quindi ormai piuttosto piuttosto insomma da aggiornare non vecchia no però da aggiornare che le dà un'idea di quello che è successo di quello che è successo nel frattempo nella chiave però che dicevo una eccezione voglio tornarci perché sono stato ma molto in breve sono stato cursore su questo ma è interessante un'eccezione rappresentata dalla un'altra eccezione dalla dagli iscritti di Schadewald che furono commissionati da Wilhelm Wagner quella è una pagina di storia della cultura perché sono sono relazioni che poi finiva una stampa e sono adesso nella seconda edizione di El Ascent Speri e negli iscritti di raccolti di Schadewald beh lì c'era una volontà direi addirittura politica non solo culturale precisa quello lo dicevo di degermanizzare il ring cioè di scrostare la mitologia nordica naturalmente della quale Wagner si serve al posto della mitologia greca questo non fa non fa stupore era normale che Wagner si rivolgesse al suo mondo al suo mito diciamo però naturalmente nel frattempo c'erano stati c'era stato il dodicennio Bayreuth aveva fatto la fine che aveva fatto nel 51 riapre ma naturalmente l'ipoteca del nazionalsocialismo è pesante e allora che cosa si fa si chiama un grecista il più famoso grecista di Germania forse il più autorevole all'epoca Schadewald o tra i più autorevoli gli si dice guarda è scrosta un po' Wagner dei cormi da caccia e delle pelli eccetera e fai tralucere insomma riporta a galla scrostando scrostando la nobile austera compostezza della tragedia di quinto secolo la quale Wagner guardava e lo sappiamo benissimo è Wieland è Wieland Wagner ha chiesto lasciate questo è perché Bayreuth ne aveva bisogno aveva bisogno di lasciarsi alle spalle e devo dire che Wieland ha fatto moltissimo per questo in prima persona da regista in particolare svecchiando modernizzando con regie spesso straordinarie e nel caso di Wagner dell'antico chiesa un grecista chiesa un antichista è una pagina interessantissima a tal punto che è studiata ci sono degli articoli sugli articoli di Schadewald di Schadewald in relazione proprio a quei tre scritti Richard Wagner und Griechen anni 60 inizio anni 60 se ricordo bene quindi già a qualche distanza da ormai da dalla fine della guerra dalla riapertura ma io sbaglio sempre perché è prima 62 e 65 tra il 62 e il 65 erano nei libretti di sana le sedi originarie sono i libretti che andavano al pubblico di Bairoy e poi la ristampa dei tre scritti grazie veramente le mando volentieri se mi manda un suo mail le mando almeno se vuole le mando almeno la bibliografia e se vuole anche un pdf dell'intera memoria perché è molto interessante molto ben fatta veramente molto ben fatta fantastico la ringrazio mi scrive Edoardo aspetto una sua un suo mail va bene e c'è qualche altra domanda io intanto saluto Ivan che vedo adesso in quadratino se posso? oh anche prego come no anche Daniele certo ho incontrato siamo stati compagni di convegno e poi compagni di atti eh sì eh certo Daniele come stai? se posso volevo in qualche maniera confermare quello che dicevi sul dilettantismo cosiddetto di Wagner e in effetti lui come altri musicisti dell'Ottocento Schumann per certi versi anche l'Ist ha una formazione un po' da autodidatta una formazione più o una provenienza più come dire letteraria poi in realtà ha una competenza tecnica straordinaria come si vede per esempio nei maestri cantori nel preludio con tutto quel un po' di intrecci contrapuntistici ma è vero che lui diceva mi pare che lo dica nella sua Erin Lungan Sfontini dove dice appunto Sfontini musicista neoclassico tra virgolette che mette al primo posto come dire la competenza tecnica la musica prima del dramma e lui dice invece se volete qualcosa di più dovete rivolgervi non al musicista ma al poeta esatto tale e quale è l'essenza di ogni possibile dilettantismos e Wagner se ne fa un punto di merito in linea con linee culturali assolutamente leggibili non è niente di strano e non dobbiamo rimproveraglielo lasciamo che Adorno glielo rimproveri ma è storia della cultura anche quella cioè i rimproveri di Adorno a Wagner diciamo rimproveri per modo di dire ma insomma gli addebiti di Adorno è anche questa storia della cultura poi studiare Wagner in modo neutro è un altro discorso e noi che non siamo Adorno dobbiamo cercare di così di studiare insomma in modo non tendenzioso di inscrivere le cose in una prospettiva storico-culturale ma tu Daniele ne sai più di me perché è roba che conosci beh sì è questa roba qui io sono così in territorio è un territorio alieno a me caro ma alieno insomma non è il mio primo mestiere ma quando si parla di musica e quando si parla soprattutto di cultura tedesca è ovviamente letteraria filosofica va bene grazie anche per il suo intervento e qualcun altro vorrebbe porre qualche domanda nessuno? beh allora mi permetto un'ulteriore considerazione certo il problema del dilettantismo è notevole c'è anche il rischio che poi sotto questo termine vadano intesi malamente anche tentativi ermeneutici che pur provenendo da da intellettuali che non sono filologi in stritto senso tuttavia riescono talvolta anzi non di rado a penetrare maggiormente quello che appunto si definiva lo spirito dell'antico rispetto ad addetti ai lavori e questa è questa chiaramente è una vecchia polemica anche lo stesso Goethe svolse delle considerazioni di assoluto momento intorno alla drammaturgia di Menandro pur ignorando Menandro e muovendo da plauto e in fondo ci sono tantissimi esempi di questo genere qua e lo stesso droisen che rimane una figura di grande fascino allievo di Hegel allievo di Böck e quindi andiamo sempre in questa direzione di sacchilologie ma allo stesso tempo ascoltò le lezioni di Lachmann e quindi vivono vivevano in lui comunque due spiriti che forse anche grazie alla prospettiva hegeliana potevano trovare una sintesi una risoluzione di questi apparenti conflitti non so è molto è molto frastagliata è la questione però è una vecchia è una vecchia storia tu citi Goethe ma tu pensa a Goethe esegito del fetonte per esempio tutto sommato le cose che Goethe scrive del fetonte sono ancora adesso da prendere in considerazione serissima ma è evidente e le cose poi si arricchiscono e si complicano nell'ottocento quando nasce quando nasce l'estetica romantica diciamo a partire dalla categoria di genio e il genio non ha bisogno di erudizione e questo è un corollario evidente lo strait attorno alla Geburte del Tragödie è questo è questo con Vilamovitz uomo di studio e di filologia e di erudizione che dice per carità fai quello che vuoi e questo lo dice Vilamovitz con quel tono un po' brusco è violentissimo ma lo dice anche e poi mi taccio ma visto che mi viene in mente lo voglio citare quando Nietzsche manda la nascita della tragedia al suo grande maestro Richel non riceve risposta Richel non entrò nello strait ma era già avanti negli anni ed era persona ritirata pubblica Richel non risponde viene sollecitato da Nietzsche ma caro Richel ha ricevuto e a quel punto risponde e risponde con un tono quasi amareggiato quasi quasi malinconico e dice al suo allievo caro caro Nietzsche certo per carità ma sa io sono troppo in buona sostanza io sono troppo vecchio per cambiare mestiere non mi chiedo di giudicare un libro che fuoriesce diciamo dalle mie competenze che è un'altra cosa e lo dice con un tono che non potrebbe essere più lontano dal tono crudele crudo brusco di Vilamovitz ma la sostanza è quella cioè il mondo filologico del resto reagiva reagiva all'odore diciamo di dilettantismo e questo era particolarmente grave nel caso di Nietzsche perché Nietzsche appunto non era un libero docente o un pensatore a passeggio ma era in quel momento già da qualche tempo era l'ordinario di filologia classica basilea e quindi insomma era ovviamente come dire esposto a strali di questo tipo d'altro canto poi trovi Rode e hai lo stesso Wagner naturalmente Wagner non vede l'ora perché nel difendere questa è la cosa straordinaria di Wagner straordinaria repellente molto spesso nel difendere Nietzsche in fondo fa apologia di sé senza nessuna dice ma che cosa attaccate Nietzsche e dice io sono come lui e così bisogna fare e così bisogna fare naturalmente le stesse cose che le stesse opinioni che si scambiano Nietzsche e Rode a un livello un po' più alto diciamo perché Rode era un personaggio ma quando i due si dicono dobbiamo ridare vita scaldare è vero bello ridare luce e vita a questa roba che si è mummificata è questo ma per farlo l'erudizione non solo non è indispensabile ma è dannosa bisogna rinunciare all'erudizione per cogliere lo spirito dell'articolo è un è un è un riflesso condizionato diciamo è un riflesso è un riflesso impressionante ah sì è utile devo continuare a riflettere su questo perché a ben vedere mutatis mutandis non è una polemica che è andata dissolvendosi no no vive sotto altre vesti anche capisco e va bene adesso vedi noi ci scioglieremmo e ci andremo andremo in albergo io a farmi una docetta e poi ci andremo a cena tutti quanti speriamo di poterlo fare presto amici miei di poterlo fare presto guarda ti ringraziamo ancora per questa dotta lezione chiedo se così in extremis se ci sia qualche domanda magari qualcuno timidamente finora sia stenuto però il professor Napolitano è uomo di grande disponibilità che ci ha sempre dimostrato per cui non temete a porre gli eventuali domande altrimenti se chi voglia Matteo chi voglia può scrivermi naturalmente a parte Edoardo con il quale ho già parlato ma chi voglia chiunque voglia tanto posso diffondere naturalmente il testo che poi andrà a stampa e poi possiamo appunto discutere di quello che volete chiunque voglia michele.napolitano chiocciola unicas.it visto che siamo costretti a fare da lontano facciamolo se volete quando volete sono io che vi ringrazio naturalmente io non ho nessuna domanda da fare ringrazio Michele per aver accettato l'invito di Matteo il nostro dell'associazione italiana e cultura classica lo saluto molto caramente gli dico che ci manca e quindi che speriamo di vederci come amiamo dire noi oggi in presenza speriamo che passi tutta questa robaccia speriamo che passi io proprio oggi ho saputo che dalla settimana prossima Cassino riprenderemo a distanza tutti io avevo fatto ho fatto 12 lezioni dall'inizio di ottobre in presenza in presenza e a distanza a un tempo ma in aula e dalla prossima settimana per tutta una serie di ragioni che ineriscono anche alle condizioni dell'edificio nel quale siamo che presto lasceremo andremo in un edificio nuovo di gecca ma quello nel quale siamo adesso arriva il freddo non abbiamo riscaldamento insomma il rettore d'accordo con il direttore di dipartimento ha deciso credo saggiamento a questo punto dalla prossima settimana e vi dico che insomma da un lato non sono infelice del fatto di non dover più andare in queste condizioni di contesto e d'altro canto quando ho letto questa cosa insomma perché ho avuto studenti in aula e non ho avuti e non ho avuti fino a ieri domani torno e poi sospendiamo e ieri erano cinque in aula cinque e gli altri a casa ma cinque per greco in fondo in presenza in questo quadro di contesto tra l'altro Cassino Frosinone sono molto colpiti dal virus in questo momento è un numero e lasciare adesso dalla prossima settimana tornare a dare moto con tutte le mie resistenze in relazione anche alla gestione diciamo politica ma su questo non voglio entrare naturalmente non è di questo che voglio parlare ma lasciare questi ragazzi o meglio continuare con loro da remoto è una cosa non averli più in aula e non avere più l'aula dopo averli preso e aver fatto un mese e mezzo di lezioni mi dispiace noi stiamo passando una tragedia una tragedia che è questa è la verità che è molto sfaccettata naturalmente è una tragedia sanitaria perché ci sono i malati e ci sono i morti e questa è la tragedia più grande ovviamente e poi c'è tutto il resto la scuola e l'università passano la loro tragedia che non è quella di chi muore ovviamente perché chi muore è peggio ma però non è uno scherzo e non sarà uno scherzo tornare indietro non sarà uno scherzo l'economia del paese insomma tutto tutto quindi insomma teniamoci forti come dire bene allora guarda ti ringraziamo ancora una volta per l'invito auguriamoci di ritrovarci presto in modalità normale diciamo così ecco l'unica accettabile però insomma comunque siamo in ogni caso a fruire di un'ottima lezione che presto vedremo anche in un volumetto di atti sì dico l'ultima cosa Matteo mi scuso con gli amici dell'ICC di Trento per la mia assenza di domani alla chiacchierata di Bernard alla quale avrei assistito volentieri ma io domani appunto prima delle sette esco di casa vado a Cassino e sarò di ritorno soltanto nel tardo pomeriggio e quindi non preoccuparti non preoccuparti grazie ci tenevo però sennò ci sarei stato ovviamente riferiremo all'oratore scrivo un rigo a zi ovviamente va bene prego dunque allora io anch'io ringrazio il professor Napolitano che per la sua tuttissima lezione molto interessante sulla quale si potrebbe a lungo disquisire il concetto di dilettantismo di influenza restituzione rivivere eccetera eccetera ecco e sono molto contento di questa di questo appuntamento quale appunto voleva la pena ecco partecipare per quanto riguarda invece domani la lezione di domani non potrò essere presente perché ho a mia volta lezione sempre a distanza e quindi non potrò e mi dispiace molto per l'argomento che tra l'altro è centrale nei miei interessi insomma al Goggia e chiudo ricordando che l'associazione Bampogna Rosmini ha in previsione per giovedì domani proprio alle 17 una conferenza sulla cooperazione territoriale interregionale nei trattati europei e nella Costituzione e parlerà la professoressa Esther Appacher dell'Università di Innsbruck e poi mi spingo un po' oltre venerdì 13 novembre il professor Umberto San Carlo parlerà di Raffaello il divino artista sapete che cade il 20esimo anniversario di Raffaello proprio quest'anno quindi ecco grazie e buona buona serata a tutti vi abbraccio a presto ciao Michele e molte grazie vi abbraccio grazie a tutti ciao Matteo ciao 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 ciao